e adesso guarda qua ti apro la porta del sottotetto che comunque una mansarda dove si sta in piedi messo due metri sto in piedi c'ho ancora spazio sopra qui ci fai o un altro appartamento di 200 metri quadrati o se no ci fai le camere da letto ci fai la sauna ci fai quello che vuoi viene fuori un penta locale cinque camere col soggiorno i bagni o se no te lo metti come vuoi è da vedere il tetto è nuovo anche nuovo ci sono i rapporti illuminanti si sta in piedi perché messo due metri sopra c'ho ancora due metri quindi l'altezza è 4 metri tutto in cemento armato non devi rifare niente il tetto è nuovo la casa dei sogni la casa dei sogni la prendi fai i tuoi ricevimenti è da prendere foto filmati prezzo su www punto agenti immobiliari riuniti 2 il numero punto it o se no telefona subito che la bruciamo questa vendiamo i sei subito telefona subito 0 30 2 7 9 1 7 6 5 la casa dei tuoi sogni ciappa